Millie Carlucci in lacrime. La terribile notizia di poco fa su Caroline Smith, Gela i fan. Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video ti ricordiamo di iscriverti, lasciare un like, e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. Caroline Smith. Volto noto della televisione italiana e amata personalità pubblica, ha recentemente suscitato preoccupazione tra i suoi fan a causa di un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Nata nel 1960 e di origini scozzesi, Smith è una figura di spicco nel mondo del ballo, avendo iniziato a danzare fin da bambina. Oltre alla sua carriera artistica, è nota anche per il suo impegno nelle campagne di lotta contro il cancro al seno, malattia che ha affrontato personalmente con coraggio e un atteggiamento positivo. La Smith. Che ama condividere con i suoi follower momenti della sua vita quotidiana. Ha recentemente postato un messaggio che ha allarmato i suoi ammiratori. Per il momento non c'è più nulla da fare. Ho fatto il possibile. Ma ora è finito davvero tutto. Queste parole hanno immediatamente fatto pensare al peggio. Considerando la sua battaglia contro il cancro. Fortunatamente, si è presto scoperto che il riferimento era ben più leggero. La fine della sua vacanza in montagna. L'insegnante di danza, infatti, aveva trascorso alcuni giorni di relax in montagna insieme al marito. Un periodo di pausa dalla routine quotidiana per ricaricare le energie. Tuttavia. Come accade per ogni vacanza. Anche questa è giunta al termine. E con il suo post. Caroline Smith esprimeva soltanto il dispiacere per il ritorno alla vita di tutti i giorni. Il malinteso è stato quindi chiarito. Portando sollievo ai suoi numerosi fan. Che continuano a seguire e supportare la loro beniamina nelle sue attività professionali e nella sua vita personale. Lascia un commento alla fine del video. E seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito. A presto con un nuovo video.